Mamo Ode ha vinto il Festival di Sanremo 2019 ma viene attaccato da Salvini Il vincitore del Festival di Sanremo è il giovane Mamo Ode ma al vice premier non piace questa vittoria. Si spengono i riflettori sul Festival di Sanremo 2019 e ieri sera c'è stata la tanto attesa proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione. I tre artisti che si sono giocati il tutto per tutto al duello finale sono stati Mamo Ode, il volo è ultimo ma ad avere la meglio è stato il giovane cantante italo-egiziano Mamo Ode che ha conquistato la vittoria grazie al sostegno delle giurie di qualità. Una vittoria che tuttavia non è piaciuta a tutti, dato che il vice premier Matteo Salvini ha subito polemizzato sui social, affermando di non essere entusiasta di questa vittoria. Sanremo 2019, la vittoria di Mamo Ode che spiazza tutti. Nel dettaglio abbiamo visto che Mamo Ode, contrariamente a tutte le aspettative e ai pronostici delle ultime ore, è riuscito a sconfiggere il super favorito di questo Sanremo 2019, ultimo. Il vincitore del festival, come vi dicevamo, è stato ampiamente supportato dalle due giurie tecniche di questa edizione meno dal pubblico da casa che lo ha premiato con solo il 14 delle preferenze. Situazione diversa, invece, per ultimo che ha conquistato oltre il 46 delle preferenze del televoto ma ha accumulato una percentuale decisamente inferiore dalle due giurie tecniche di questo festival di Sanremo. Terza posizione, invece, per i tre ragazzi del volo che in passato sono stati già proclamati vincitori della kermesse musicale. Nel momento in cui c'è stata la proclamazione del vincitore del festival di Sanremo 2019 lo stesso Mamo Ode è apparso abbastanza scioccato e del tutto incredulo del fatto che fosse riuscito ad avere la meglio al duello finale e a conquistare il premio più ambito della competizione canora. La critica di Matteo Salvini dopo la vittoria di Mamo Ode. Ma la vittoria di Mamo Ode non è piaciuta proprio a tutti, in primis al vice-premier Matteo Salvini che ieri sera twittato dei messaggi in diretta subito dopo la proclamazione del vincitore finale. Mamo Ode. Ma. La canzone italiana più bella? Io avrei scelto ultimo, ha scritto Salvini sui social postando una foto di Mamo Ode che nel frattempo veniva proclamato vincitore. Immediatamente si sono scatenati i commenti sotto al post di Matteo Salvini e in moltissimi hanno ammesso di essere d'accordo con il ministro dell'interno e che avrebbero voluto assistere alla premiazione di ultimo oppure a quella di Loredana Bertè, considerata la vincitrice morale di questo 69 grado festival di Sanremo. Grazie a tutti.